E periferia è anche il rione Luzzatti di Napoli sul quale ha acceso le luci la serie L'Amica Geniale dove ora si fa rete per promuovere rigenerazione urbana, sociale e culturale. Anna Teresa Damiano. Un grande spazio riqualificato nell'area giochi dell'oratorio della parrocchia Sacra Famiglia. Calcio, basket, pallavolo, dance ability, danze folkloristiche, bicicletta. Lo sport geniale, progetto finanziato per 273 mila euro dalla Fondazione con il Sud, è partito a dicembre con sette realtà del territorio già coinvolto oltre 100 persone di tutte le età, durerà tre anni. Tutti i progetti che sosteniamo spingiamo perché abbiano una durata almeno triennale che è il tempo giusto perché il progetto si consolidi e trovi il sistema di sopravvivere quando finisce il nostro sostegno. È stata un po' una scommessa provare a metterci insieme per cercare di pensare insieme il bene del territorio stesso. Sul rione Luzzati Ascarelli, periferia a lungo poco iconica, le luci le ha riaccese da due anni la serie tv L'Amica Geniale, una comunità che ha vissuto come altri quartieri popolari lacerazioni sociali, trasformazioni. Nell'ambito del progetto c'è anche una parte dedicata all'integrazione della comunità rom e cinese che spesso frequentano l'oratorio ma difficilmente riusciamo a farli integrare. Una vera e propria rigenerazione urbana non si è mai vista, la presenza di molte associazioni sportive anche se con pochi iscritti ha dato il via a una rete. L'importante è capire che nelle periferie non si va solo ad aiutare i più fragili, si va a costruire comunità perché senza la comunità non c'è neanche sviluppo economico.